Ok, ok, siamo dentro E adesso saliamo Siamo dentro, ciao Stefi, scusate Ciao, dove ci porti? Ciao, bella Ok, siamo quasi al backstage, vi faccio dare un'occhiata a cosa si vede da qui Entriamo, wow Questa è la parte dietro, è stata chiusa E il backstage del Smoda Wow, ciao Tutto questo in via Roma sul meraviglioso palcoscenico e colonnato delle poste centrali Questo è il backstage di Smoda Stiamo facendo un giro tra i vari stilisti Quindi quello che vediamo è tutto mixato Qui il make-up Bello, bello Io sono con Stefi che è l'ideatore di questa manifestazione biennale ormai a Falermo Smoda Però è il mio cugino Scusa, Skiff, mi dici cosa è Smoda? Perché c'è chi non l'ha capito fuori Smoda è una... non è soltanto una schilata con materiali di biciclo Ma è anche per me il festival bar di Skiff Praticamente c'è teatro, c'è musica, c'è moda, c'è writing C'è tutto quello che vuoi Tutte le arti praticamente E comunque in questo momento quello che voglio è che vengono ora più persone possibili per far vedere questo spettacolo che è incredibile Sta arrivando un autobus particolare, voglio capire Oh ma sto cano è pericoloso Ma che c'è dentro l'autobus? Gli alieni Gli alieni? Sì? La signora dice ci sono gli alieni Dove signora? Qua, oddio io Ah grazie Adesso c'è un autobus di Palermo con dentro l'806 con dentro gli alieni Quanto è brutto No time to rest Just keep going Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.